Musica Qua di sempre ha successo anche quando organizza ma perché riesce a cogliere le esigenze di P-Born? Sono tremendi perché vanno a cercare quelle robe che loro magari non volevano fare perché no è troppo difficile ma poi la proponono agli altri Guarda che sono tremendi Un altro che faccio a Vagostano è Roberto e Eliana Scioglou Ragazzi buongiorno Il pilota è più tranquillo che abbiamo intervistato fino ad ora, questo è un complimento in realtà Grazie, se mi è fatto io un grado abbastanza caldo Però Eliana adesso poi allo start bisogna dire una... adesso guarda che bisogna... C'è la S... Prova? Prova? Prova che ti piace di più Penso la Lelua Classicissima, molto veloce però Diciamo, è impegnativa lo stesso I Lelua e i modelli sono fatti anche di questi Forza ragazzi, numero 44 per loro Come? Come you okay? Come? 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.